Bravate che ben presto si sono trasformate in danni economici per chi quegli atti vandalici li ha subiti in prima persona. Sono stati diversi gli episodi spiacevoli che si sono consumati nell'ultimo weekend pesarese, dove a prendersi i ruoli di protagonista sono state probabilmente alcune ragazzate che hanno lasciato attoniti i malcapitati. È successo nella notte tra venerdì e sabato nel lungomare di Viale Trieste e Lato Ponente, dove i bagnini di cinque stabilimenti balneari si sono ritrovati al mattino con una mara sorpresa. Alle prime luci dell'alba decine e decine di lettini da spiaggia sono stati rinvenuti squarciati e tagliati in più punti, provocando non poco sbigottimento tra i proprietari colpiti, come Riccardo di Bagni Ridolfi non nuovo a questo tipo di episodi. Anche quest'anno è successo, l'importante è che queste persone che hanno fatto questo gioco si siano accontentate, noi pagheremo i danni, metteremo a posto la situazione, tutto tranquillo come sempre, va avanti sempre dagli anni, da 50 anni a sta parte. Non è una cosa nuova, però dispiace. Anche ai clienti hanno paura, è da dire, si sono fermati lì, c'è niente sotto la sabbia, c'è niente sopra, c'è niente... Sono tutte cose che in questo mondo mettono paura. Puoi avere un taglierino, puoi avere un coltellino tipo svizzero, puoi avere qualcosa, però ce l'avevi, ti sei messo d'accordo, non è che ti è capitato sotto le tasche e adesso vado a tagliare sei o sette bagnini, i lettini. Sono discorsi che si sono messi un po', ha detto dai andiamo a fare un dispetto oppure andiamo a fare una bravata, andiamo a fare una risata, non lo so. L'episodio si è verificato tra le tre e le sei, il momento in cui la vigilanza non era presente, come si potrebbe intervenire magari in futuro per evitare questi episodi? Come può avvenire? Cambiando una legge che ci tutela tutti, sia il bagnino, sia la strada, sia le case, da dire quando succedono queste cose qui, li puoi prendere almeno per le orecchie, portarli davanti a papà e mamma, da dire signori questi hanno fatto dei danni. Le cose come le mettiamo? No, non puoi farlo, però ci sono molti genitori che viene giù e ti dà uno schiaffo perché hai toccato il figlio. Come tamponate l'assenza di questi lettini in queste ultime settimane estive? Abbiamo altri lettini nel tempo perché tanto si tengono o per una mareggiata o per un temporale, vediamo che un po' di magazzino bisogna averlo. Atti vandalici del weekend che non hanno colpito solo Viale Trieste ma anche Viale Venezia e le vie limitrofe. Nella notte tra sabato e domenica il bersaglio si è spostato sulle bici parcheggiate lungo la strada, ritrovate il mattino seguente dai proprietari con le gomme forate. Danni anche per numerose biciclette che erano state lasciate nei cortili interni dei condomini ma con il cancello dell'ingresso aperto. Gesti viscidi che hanno visto il loro culmine quando a qualcuno, nello spazio di distributori automatici sempre aperti di Via della Repubblica, è venuto in mente di depositare nelle cassette dei resti una quantità deplorevole di vermi. Si tratterebbe di larve di mosca utilizzate per la pesca, provocando inevitabilmente disgusto tra i malcapitati che hanno immediatamente contattato chi di dovere per una rapida pulizia.